Buongiorno alle autorità, se ci sono e comunque tutti noi ci sentiamo oggi, autorità. Abbiamo questa presunzione. Alle signori, alle signori, per un avvento che sicuramente, come vedevo più avanti, ha una sua rilevanza, una sua importanza, non di poco conto. Mi permetto di porgiare io a nome del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato di Foggia, Fabio Borreca, che dovrebbe essere qui, forse sarà qui, ma un disguido aereo da Milano segnala un ritardo. Invece voglio ringraziare, essendo io giornalista, i giornalisti e soprattutto anche i miei amici di Rai 3, che hanno avuto la cortesia di essere presenti. Nonostante oggi sia un avvento importante a Foggia, si rinunisce l'antimafia, in seduta straordinaria, in un navigamento nazionale di tutto rilievo, che in qualche modo però si collega anche con un'operazione di legalità e di trasparenza proprio di questa blockchain. Quindi, volessimo fare un'alliazione di star molto bene. Parleranno il Presidente della Fondazione Chirò, che ovviamente è la casa madre di questa iniziativa, il Vice Presidente Ercole Festa, che poi ovviamente, poterò di volta in volta ciascuno per quello che fanno nella vita e per quello che cosa hanno fatto, e racconteranno l'importanza di questa iniziativa. Io schisterò un po' il traffico e cercherò di legare l'intervento all'altro come vi sarà possibile.